Parliamo di rinoplastica oggi, ma non la rinoplastica, la chirurgia del naso tradizionale. Parliamo di rinoplastica estetica, vuol dire cambiare la forma del naso con delle semplici punturine. Un qualcosa che non lascia grossi segni, in genere non lascia nemmeno un segno, nemmeno lividi, nemmeno grosso gonfiore, è un qualcosa che permette di cambiare in maniera sostanziale il naso e di correggere dei difetti del naso. Ovviamente abbiamo diversi tipi di difetti e abbiamo diversi tipi di nasi. Ad esempio il nostro naso, il naso prevalente nelle nostre regioni, è un naso caucasico. È molto frequente dover correggere le gobbettine del naso e lo si fa riempiendo intorno alla gobbettina in maniera tale da correggere il difetto. Va benissimo l'idrossiapatite di calcio, va benissimo anche l'acido aluronico, va benissimo il grasso, il lipofilling mini-invasivo. Si può correggere la punta del naso alzandola perché tipicamente nelle nostre popolazioni l'angolo nasolabiale, cioè l'angolo che si forma tra la punta del naso del labbro tende a diminuire con gli anni, quindi il naso, la punta del naso tende a avvicinarsi al labbro, ecco quindi che è utile aumentarlo. Anche questa cosa qua si può fare con delle semplici punturine e poi bisogna pensare anche agli altri tipi di nasi. Io lavoro tanto in Cina, ad esempio, in Cina la prima cosa che mi chiedono è di aumentare il naso, una cosa molto inconsueta da noi, ma molto frequente nelle popolazioni asiatiche, oppure nelle popolazioni africane è molto frequente dover alzare il naso che è molto piatto, quindi piccoli trattamenti, punturine, risultato immediato e risultato estremamente efficace senza grossi rischi.